Diego Armando Maradona sarà stasera ospite del programma di Maria De Filippi Amici. Negli studi romani di Canale 5 Litri ex capitano del Napoli abbraccerà il figlio Diego Junior e il nipotino Diego Mattias, nato nel giorno di Pasqua. Non è previsto che il campione, accompagnato dalla fidanzata Rocio e dal consulente Stefano Ceci, vada a Napoli o raggiunga Torino per assistere a Juventus-Napoli, domani farà rientro a Dubai.